Ho paura per la città, sono preoccupato che si possa tornare indietro negli anni bui dalla recrudescenza criminale. Il lastindaco di Niscemi, Francesco Larosa, è molto turbato a seguito dei gravissimi fatti delinquenziali che si sono verificati ultimamente in città. Martedì sera, come si ricorderà, mani ignote hanno crivellato di colpi l'auto, una Fiat Stilo, dell'assessore alla manutenzione, all'igiene e ai servizi cimiteriali, Giuseppe Giugno, 40 anni, parcheggiata sotto casa in via Borsellino. Un proiettile ha raggiunto anche il portone della vitazione della vittima. Un inasprimento degli atti criminosi contro l'intera giunta comunale. Dall'avvelenamento in campagna di due cani di prevedo dal sindaco, poi è stata legata con un oggetto metallico appuntito la carrozzeria dell'auto del vice sindaco Rosario Meri. Ed ancora il rinvenimento di una bottiglia incendiaria davanti al portone di casa a Gela dell'assessore Carlo Attardi, lavori pubblici ed urbanistica. Un'aggiunta comunale, quella del sindaco Francesco Larosa, che ha recentemente dato mandato all'ufficio legale del comune di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia che sono in corso per fatti criminosi, che si sono verificati nel territorio comunale e che comunque si trova negli ultimi tempi nel mirino delle organizzazioni malavitose. L'individazione a colpi di pistola di martedì scorso ha parecchio scorso, amariggiato e sconvolto il sindaco, l'intera giunta ed il consiglio comunale, soprattutto per gli effetti traumatici di natura psicologica causati all'assessore Giuseppe Giugno e ai suoi familiari più cari, la moglie, i figli e l'anziana madre, la quale è stata anche colta da un improvviso malore e condotta al pronto soccorso dell'ospedale Suor Cecilia Basarocco, dove poco dopo è stata dimessa con la somministrazione di calmanti. Anche il presidente del consiglio comunale, Luigi Licata, esprimendo la massima solidarietà all'assessore Giugno e sentimenti di condanna del grave atto intimidatorio, ha convocato per questa sera alle 20.30 una seduta del consiglio comunale con gli estremi di urgenza, con all'ordine del giorno l'atto criminoso compiuto nei confronti dell'esponente dell'amministrazione comunale. Le intimidazioni contro un amministratore comunale sono una ferita lacerante alla democrazia, lo dice il sindaco di Gela, Domenico Messinese, esprimendo solidarietà all'assessore Nisce Mese. Siamo vicini all'assessore Giugno, ha continuato il primo cittadino, e confidiamo che le forze dell'ordine possano individuare i responsabili di questi atti deplorevoli per una società fondata sul diritto. L'escalation di intimidazioni ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, che si registra nelle ultime settimane in tutta la Sicilia, è un grave elemento da non sottovalutare, rischiando di degradare il livello periferico delle istituzioni ad anello debole del malcontento politico. Il dialogo ed il buonsenso, dice Messinese, siano il motore di una nuova stagione che sappia contrapporre ragionevolezza e buon governo ad un disorientante clima di terrore.